Partiamo dall'ariete. Siete con la testa fra le nuvole, eppure ci sono alcune difficoltà in ufficio che richiedono invece la vostra più totale attenzione. Perciò cercate di non farvi cogliere alla sprovvista. Toro, le questioni pratiche oggi potrebbero assorbire completamente la vostra attenzione. Dovete evitare di perdervi nei troppi dettagli, altrimenti potreste fare fatica a valutare le situazioni nel loro insieme. Gemelli, l'umore oggi potrebbe essere un po' troppo incandescente. Occhio a non reagire in maniera esasperata a qualche situazione che non va come vorreste voi. Un progetto di lavoro a cui tenete molto potrebbe invece slittare all'anno nuovo. Cancro, la famiglia continua a pretendere l'impossibile e voi continuate a darvi da fare come matti pur di non deludere chi amate. Non dimenticate mai però che oltre alle loro esigenze ci sono anche le vostre. Leone, siete sempre in pole position e cercate di mandare in porto un affare a cui state dietro da tempo. Magari ci sarà da attendere ancora un po', ma alla fine le cose dovrebbero girare a vostro favore. Vergine, non fate una malattia dietro qualcuno che vi piace ma che non sembra rispondere alle vostre attenzioni con la stessa intensità. L'amore potrebbe anche scaldarvi il Natale. Bilancia, le occasioni di lavoro si fanno sempre più interessanti e impellenti, così vi viene il timore di non essere in grado di sistemare tutto prima delle festività. Scorpione, le persone vanno accettate per quello che sono, non per quello che voi vorreste che fossero. Questa è la lezione che dovrete imparare nella giornata di oggi quando sarete obbligate a dover riconoscere di aver preso un abbaglio. Sagittario, le cose vanno chiarite subito, si corre il rischio di far nascere un'incomprensione con qualcuno a cui si tiene in modo particolare. Perciò oggi l'amore richiede massima trasparenza. Capricorno, giornata a proficua in cui riuscirete a mettere a posto un buon colpo professionale. Non fermatevi però, la strada è ancora lunga per raggiungere i vostri obiettivi. Acquario, avete tanti bei progetti da attuare e poco tempo per farli come vorreste voi. Pazientate, sarete ugualmente in grado di fare un'ottima figura con un superiore che vi sta apprezzando da lontano. Pesci, sarete un po' dispersivi in questa giornata in cui potreste fare molto ma perderete spesso e volentieri il punto focale della situazione. Parenti ha bisogno di maggiore attenzioni, perciò dedicategli un po' più di tempo.